Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Cicomalo e ben ritornati in questo nuovissimo video. Nuovo video della pioggia a Giulianova, la provincia di Giulianova, della città di Giulianova, è Teramo, in Abruzzo, la regione, nel mar Adriatico. Giulianova si trova nel mar Adriatico. Nella regione italiana Abruzzo. Oggi 17 luglio 2021, ore mezzogiorno e 41. Sta piovendo. E si sentono anche dei tuoni. Aspetta. Vabbè. Vabbè lascio così. Ok ragazzi, ciao a tutti. Finnevi hands, ciao.